Sono entrati in mobilitazione gli 82 vongolari del consorzio Cogevo, facendo comparire sulle proprie imbarcazioni striccioni di malcontento da quando è stata stipulata con un decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale lo scorso 7 aprile la creazione dell'area protetta del parco marino Torre di Cerrano, la zona che va per intenderci tra Pineto e Silvi Marina. Secondo i vongolari del compartimento di Pescara e Giulianova la creazione del parco comporterebbe un notevole ristringimento dell'area di pesca e considerando che l'area è una delle più pescose della zona porterebbe alla rovina di numerosi pescatori tra cui anche molti giovani. Numerosi gli slogan presenti sulle imbarcazioni tra cui voi sistemati i vostri giovani nel parco e i nostri senza futuro oppure parco marino fermati il misfatto ma ci sono anche messaggi riferiti all'amministrazione comunale di Pineto accusata di voler mascherare l'inquinamento e degrado con rispetto dell'ambiente. Questi sono gli argomenti di discussione trattati nel tavolo istituzionale in programma del pomeriggio con la partecipazione dei rappresentanti della Gogevo e i vari assessori regionali per cercare di trovare una soluzione che non vada ad aggravare ulteriormente la situazione dei pescatori locali.